Il Don Bosco deve stare attento a questa cosa. Siamo all'intervallo, una partita equilibratissima, come la state vivendo in tribuna? È molto dura anche perché sappiamo che hanno le carte in tavola per vincere loro, quindi noi diamo tutto sia sugli spalti che in campo e speriamo di riuscire a fare il nostro meglio. Siete molto vicini alla squadra ma lo scopriremo se è servito a fine partita. Noi comunque siamo contenti se anche a fine partita non dovessimo vincere ma riusciamo a mostrare uno spettacolo, a supportare fino alla fine i nostri ragazzi come stiamo facendo e come abbiamo fatto fino adesso. Nel trofeo dei collegi è proprio questo quello che conta. Esatto. Ciao. Ciao, grazie.